Tra i filari non poteva naturalmente mancare il padrone di casa, Gianni Massa oggi è armato di cesoie e l'estate calda ha favorito la produzione. Sì, l'estate calda a noi qui non ha dato fastidio, devo dire anzi, ha migliorato la qualità, perché non avendo piovuto l'uva si presenta come vedete sana, bella, e devo dire che sono terreni che non hanno problemi di acqua, quindi sono abbastanza autonomi, quindi produzione bella, il grappolo sano, molto sano, direi che quasi all'apparenza sembra uva da tavola, dal tanto che è cresciuta bene, quindi siamo veramente soddisfatti di questa vendemmia. Il prodotto è sano, la quantità? La quantità non è eccessiva, devo dire, è giusta, ecco, è la quantità giusta, credo che staremmo nei parametri della DOC, come quintali ettaro, quindi diamo molto bene. Il prodotto adesso in vigna l'abbiamo lavorato bene e quindi abbiamo adottato il detto che il vino buono si fa in vigna. Adesso chiaramente dobbiamo lavorare in cantina, se lavoriamo altrettanto bene, credo che avremo una produzione discreta come quantità, ma anche come qualità. Oggi è una giornata di lavoro, ma anche una giornata tra amici e un'occasione per stare in compagnia. Sì, oggi è la classica giornata della vendemmia che facciamo questa festa, è un incontro tra amici, parenti, e si fa questo tipo di lavoro che, diciamo, è più che altro far vedere la nostra produzione agli amici perché la pubblicità è l'anima del commercio. Un merito importante è quello anche di recuperare il territorio, avete strappato ai rovetti vigneti antiche e continuate a farlo. Ecco, sì, è vero. Noi queste vigne qua sono tutte vigne che abbiamo recuperato ai rovetti. Questa è un'antica, dove siamo adesso, un'antica vigna, una delle prime docche della provincia d'Imperia, era però piantata a Rossese e non era piantata a Vermentino come è adesso. Però sono vigneti che è veramente un peccato, che siano in stato di abbandono, poi se guardate attorno vedete che ce ne sono ancora diversi. È un peccato veramente, perché queste potrebbero essere zone, io dico sempre tipo il Barolo, ecco, perché le vigne di Caravonnica, a detta di tutti e a detta degli esperti, hanno un terreno particolarissimo, hanno una capacità appunto di non soffrire la sete, che è importantissimo perché si evita molto, si recupera tanto in costi non dovendo irrigare. e quindi noi stiamo continuando a recuperarne ancora, ne abbiamo appena recuperata una qua dietro, che abbiamo impiantato quest'anno, ne abbiamo ancora un paio da fare, poi vedremo, ecco, vedremo come va la situazione di vendita del prodotto.